In Windows, correggere errori di mancata corrispondenza della carta o mancata corrispondenza del formato della carta che vengono visualizzati dopo il caricamento di un nuovo tipo o formato di carta nella stampante HP. Ricaricare la carta e quindi impostare le corrette impostazioni della carta nel programma da cui si stampa. Sulla stampante, rimuovere tutta la carta da tutti i vassoi carta. Allineare la pila di carta e quindi ricaricarla nel vassoio. Far scorrere le guide di larghezza e lunghezza della carta. Sul computer, selezionare File e quindi selezionare Stampa. Sotto Stampante o Nome, selezionare la freccia giù e quindi nell'elenco a discesa selezionare la stampante. Selezionare Preferenze, Proprietà o Proprietà stampante. Selezionare la scheda Qualità carta. Selezionare il menu a discesa Origine carta e selezionare il vassoio della stampante in cui è stata caricata la carta. Selezionare Avanzate. Selezionare Formato carta e quindi nell'elenco a discesa selezionare il formato della carta caricata nella stampante. Selezionare OK, quindi selezionare OK di nuovo per salvare le impostazioni carta. Selezionare Stampa per cercare di stampare il documento. Se l'errore persiste, andare alla fase successiva. Il ripristino della stampante potrebbe eliminare un errore di mancata corrispondenza della carta non reale. Se la stampante è accesa, scollegare il cavo di alimentazione della stampante e quindi scollegare l'altra estremità del cavo dalla sorgente di alimentazione. Attendere almeno 60 secondi, quindi collegare il cavo di alimentazione direttamente ad una presa a muro. Ricollegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla stampante. La stampante si accende automaticamente, altrimenti premere il pulsante di accensione e quindi provare a stampare di nuovo.